Finalmente è arrivata la bella stagione e soprattutto per i bambini non c'è niente di meglio di fare un po' di sano sport all'aria aperta. Ciao a tutti, sono Luca del reparto Bici Decathlon di Grugliasco e sono qui per darvi qualche consiglio su come acquistare la bici giusta per il vostro bambino. Ad aiutarmi ci sarà la piccola Alice. Prima regola, sicurezza. Il caschetto non deve mai mancare. Assicuratevi di comprarlo della misura giusta e ricordatevi di regolarlo. Un parametro per scegliere la bici giusta è l'altezza del bambino. Per un bambino che non usa più le rotelle, alto al massimo 1,35 m, si consiglia una bici con ruota da 20 pollici. Per un bambino con un'altezza compresa tra 1,35 m e 1,55 m si consiglia invece una 24 pollici. E' anche da tenere presente il tipo di utilizzo. Noi proponiamo una city bike per un utilizzo più cittadino. Per i piccoli amanti della natura invece proponiamo una mountain bike. Indipendentemente dall'utilizzo, controllate che ci siano il campanello e le luci anteriori e posteriori. La city bike è monomarcia e ha i copertoni più lisci rispetto ad una mountain bike che invece li ha più tassellati e in più ha cambio e ammortizzatore. Spero di esservi stato utile e ricordate che anche a mamma e papà fa bene fare un po' di movimento con i propri figli. Ciao, alla prossima!